Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara penne 17 milioni di euro in meno e il bilancio tutt'altro che esaltante che affonda l'Abruzzo delle esportazioni nei primi tre mesi del 2019. Lo rivela lo studio condotto da Aldo Ronci per la CNA Abruzzo, secondo il quale l'ammontare complessivo dell'export delle nostre imprese tra gennaio e marzo di quest'anno si è fermato a quota 2.184 milioni di euro contro il 2.201 dello stesso periodo dell'anno passato con una differenza appunto di 17 milioni, cifre che tradotte in percentuale vogliono dire lo 0,7% in meno rispetto a un anno fa in un paese, l'Italia, in cui al contrario la bilancia commerciale alla stessa voce segna un incremento di due punti percentuali, un dato definito impietoso, tanto più se confrontato con la performance di un anno fa quando l'incremento sull'anno precedente era stato addirittura del 7%. Grido d'allarme sul personale di regione e agenzia regionale per la tutela dell'ambiente servono mezzi e tecnici, settori nevralgici che tutelano interessi pubblici primari come salute e ambiente sono allo stremo. Lo lanciano il forum H2O Abruzzo e la stazione ornitologica abruzzese che fanno un appello al governo regionale affinché assicuri immediatamente il nuovo personale e pianifichi altre assunzioni nel medio termine di personale specializzato nonché mezzi per l'arta, forum e SOA passano in rassegna le carenze ufficio per ufficio e mettono in evidenza la mancanza di personale specifico per le diverse mansioni. La regione Abruzzo, fin dall'insegnamento dell'amministrazione guidata dal presidente Marco Marsilio, ha mostrato particolare sensibilità per creare le condizioni infrastrutturali per ospitare eventi capaci di favorire l'attrattività turistica sul territorio. Così è stato per il Giro d'Italia, per cui la regione ha stanziato finanziamenti per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade interessate. Così è stato per numerosi altri eventi. Per tutti l'amministrazione regionale ha contribuito a rendere possibili le manifestazioni mediante l'efficientamento dei siti destinati ad accogliere gli eventi. Si ritiene necessario precisare, fa sapere la stessa regione, che con lo stesso spirito e il medesimo intendimento si è inteso procedere con la deliberazione di giunta distinta al numero 345 in data 18 giugno 2019, quindi l'altro ieri, scusate, finalizzata a consentire, come più volte richiesto dal comune di Vasto, esclusivamente la pulizia e la bonifica del cosiddetto Fosso Marino, sito posto in prossimità dell'area individuata, per ospitare lo spettacolo Jova Beach Party, con l'obiettivo di rendere accessibile in sicurezza un'area che sarà investita dalla presenza di decine di migliaia di persone, contribuendo a quarta parte delle spese che l'amministrazione comunale si è impegnata a sostenere. Non sono previste spese per il finanziamento dello spettacolo, che rimane un'iniziativa privata. L'intervento, peraltro, conserverà la sua efficacia anche successivamente e a prescindere dall'evento, le cui dimensioni costituiscono solo la ragione dell'urgenza e della priorità con cui si è inteso procedere. È in arrivo la Cassa Integrazione straordinaria per i 1.800 lavoratori di Mercatone 1. Lo si apprende da fonti sindacali ancora presenti al tavolo aperto al Ministero dello Sviluppo Economico ieri mattina alle 10. Secondo il verbale che appunto pare sia stato firmato dalle parti, la Cassa Integrazione straordinaria partirà dal 24 maggio, giorno in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Cernon e durerà fino al 31 dicembre 2019. I lavoratori non percepiscono lo stipendio dal mese di aprile, quando hanno ricevuto solo due terzi. Il provvedimento riguarderà ovviamente anche i lavoratori dei tre stabilimenti in Abruzzo, per la cui amministrazione straordinaria è stato nominato anche un professionista pescarese, Pino Farchione. Individuate 37 strutture potenzialmente pericolose per l'Orso Bruno Marsicano in 16 comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Si tratta di vasche, pozzi e serbatoi censiti dal servizio di sorveglianza dell'area del parco e nella zona di protezione esterna. Un controllo necessario dopo che nel novembre 2018 un orso e due cuccioli erano annegati in una vasca di raccolta dell'acqua piovana a Villa Valle Longa. Nel 2010 erano già morti altri due orsi. Oggi la popolazione residua di orso nell'Italia centrale conta solo 50-55 individui. Il Comune di Pescara è il legittimo proprietario dell'eliporto di Pescara, ovvero del parcheggio coperto con annessa elisuperficie per il servizio di elisoccorso adiacente all'ospedale civile di Pescara. Lo ha stabilito, con sentenza pubblicata il 4 giugno scorso, il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso del Comune di Pescara contro la prima sentenza del TAR. Il pronunciamento apre anche un capitolo nuovo nella vicenda che ha visto cancellare l'elisuperficie di Pescara dalle rotte di volo degli elicotteri dell'emergenza sanitaria. Prodotti artigianali realizzati a mano da persone diversamente abili che dall'Abruzzo finiscono nei migliori hotel e ristoranti di tutta Italia e che presto arriveranno anche dall'estero. Sono quelli realizzati dai ragazzi del Laboratorio Incontro di Montesilvano nell'ambito di una partnership con una storica azienda di Giuliano Tetino che dal 2015, nel processo di selezione dei fornitori, frutto non solo di logiche economiche e commerciali, ma anche e soprattutto sociali, si è rivolta alla struttura montesilvanese. Una collaborazione che in un'ottica sociale e solidale si è arricchita di recente di nuovi progetti e realizzazioni. Oltre ai prodotti classici, la spatolina in legno per spalmare le confetture, alcuni elementi dall'innovativo dispenser per collana, la mollettina in legno salvabusta, i ragazzi dell'Associazione Laboratorio Incontro hanno preparato dei vassoietti e delle scatole, rigorosamente in legno, che andranno a comporre le confezioni regalo con i prodotti destinati al consumatore finale. Inoltre, le realizzazioni dei ragazzi di Montesilvano finiranno anche nelle case di migliaia di italiani che ogni giorno scelgono la qualità dei prodotti abruzzesi. Il progetto, che vede protagonista gli utenti del Laboratorio Incontro, è stato al centro di numerose fiere ed ha ottenuto importanti riconoscimenti. Si terrà domani alle ore 17.30 nel Salone della Chiesa di San Pietro Apostolo a Pescara la conferenza dal titolo La Famiglia Tradizionale, ancora una componente essenziale della nostra società che vedrà ospite come relatrice, l'Avvocato Federica Mambella, mediatrice familiare, conferenza organizzata dall'Associazione Medici Cattolici Italiani, sezione di Pescara Medici. I operatori e i cittadini sono invitati a partecipare, lo ripetiamo, domani alle 17.30 nel Salone della Chiesa di San Pietro Apostolo a Pescara. Oggi è giovedì 20 giugno, la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a padre Ignazio Buffa. Il meteo dice che oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a metà mattino e poco nuvoloso nel resto della giornata con temperature da 24 a 29 gradi e venti deboli nelle zone interne. Cielo sereno fino a metà mattino, poco nuvoloso in tarda mattinata e nelle ore centrali, sereno nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio e poco nuvoloso in serata con temperature da 24 a 30 gradi e venti deboli in mare. È previsto calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne. A voi tutti, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica.